sta facendo il giro del web ed è diventato virale questo video gopro realizzato a largo delle coste del messico un salvataggio in presa diretta di una tartaruga rimasta impigliata in una cima sarebbe morta se non fossero intervenuti questi due sub professionisti che hanno documentato tutta l'operazione e non è stato facile levare dalla zampa della tartaruga la corda che si era poltolata un salvataggio che vuole sensibilizzare l'opinione pubblica su quanto siano pericolose reti e lacci per questi splendidi animali patrimonio unico al mondo dei nostri oceani grazie a tutti